Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Antonio e bentornati in questo nuovo vlog Oggi siamo a Torino perché ragazzi ho un difetto, mi dispiace perché questo video non ci entrerà niente con quello che porto sul mio canale Ma tifo Juve ed è per questo che ho deciso di portare la mia esperienza, la mia primissima esperienza, la prima volta che vado allo stadio qui all'Allianz Stadium E andrò a vedere Juventus Valencia, quindi direi una partita di non poco conto Quindi mi dispiace, dovete convivere col fatto che oltre a seguire la MotoGP tifo la Juve Sì, però prima di andare allo stadio è doveroso fare un room tour perché in questo appartamentino è un po' strano, dico la verità Sono con mio padre e un amico di mio padre che in questo momento non sono a casa, sono andati a comprarmi un Kinder Bueno perché sono viziato Questa è ufficialmente la dimora, allora abbiamo questa cucina soggiornino un po' ok Dell'arredamento altamente discutibile per poi avere la sala tranquillamente dove dormiamo Abbiamo la toilette, niente di eccezionale, però c'è un bel ragazzo lì Questo è il fuori, oltre a fare un freddo cane, la zona è carina dai Però diciamo che tutto questo è temporaneo perché a noi ci interessa lo stadio e quindi adesso per uno swash di camera Benvenuti allo Juventus Stadium, Allianz Stadium Grazie a tutti E abbiamo comprato anche la maglia che conta Adesso, sì, possiamo tornare allo stadio Quando era criança, sempre sonhei in tornare un campione È preciso determinazione e volontà di vencere E anche anche nei momenti più difficili, tu hai di continuare a credere E questa è la tua opportunità di te mostrare al mondo Tu sei un campione E questa è la tua opportunità di te mostrare al mondo E questa è la tua opportunità di te mostrare al mondo Grazie a voi È stato semplice Come sei papi? Un grande figlio Olè, siamo dentro Finalmente mi hanno fatto buttare ioreo Sto bestemmiando tutti i loro santi Raga, stiamo per entrare È andato Oh mio dio Impressione a caldo Ma quanto è bello Mamma mia No, vabbè È bellissimo Vedi, facciamoci una cosa Fatta, qual è sta la parola al video È bellissimo La primissima partita allo stadio è fantastica Non è ancora iniziatta Io già sto Sto proprio in forma Sono ufficialmente in clima per partita Benvenuti all'Allianz Seiyu Sono un po' troppo attivo Sarà ancora la storia di tutti i loro Solo un po' troppo Fare di te quello che sei Di un cuore Storia di un grande amore Bianco che abbraccia il teo Corro che si alza davvero Di un grande amore E se ne so Ecco Ecco Numero 3 Giorgio Bellini Numero 5 Mirabem Pjanic Numero 7 Cristiano Parato Numero 10 Polo Pibola Numero 12 Lorenx Zattro Numero 14 Blaze Paguiti Numero 17 Mario Matsukic Grande Numero 19 Leonardo Boruzzi Numero 20 Cappo Capo Cappo Numero 30 Rodrigo Pisa 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 Sì, avvamo! Grande scelte! Il riassunto è, noi 70 tiri, loro 1, noi non avevamo fatto nemmeno un gol e loro avevano quasi segnato grandissima parata di scelte, poi un arbitro un po' così, insomma dura però non impossibile, fino alla fine forza Juve! Sì, vabbè, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Mi sono dimenticato di fare i saluti! E quindi con questa voce post registrata vi dico che è da Tonio è tutto e ci si becca in un prossimo video! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!